Siamo con l'onorevole Baroni che è il relatore del Sunshine Act e onorevole che è in discussione alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Allora onorevole vogliamo spiegare ai nostri lettori e soprattutto ai professionisti della sanità in poche parole in cosa consiste questo Sunshine Act. Ci proviamo a spiegarlo molto brevemente. Sicuramente facciamo prima a dire che cosa prova ad essere il Sunshine Act perché comunque più che essere una legge statunitense anche nel modo in cui è stata proposta in Italia è stata proposta secondo il modello francese che si chiama Transparance Santé ed è una banca dati visibile al pubblico a chiunque anche dall'Italia. Se uno scrive Transparance Santé viene fuori con .gov.francia e ci sono circa 700.000 record inseriti all'anno, almeno questo era il dato del 2014, che riguarda medici, infermieri, fisiochinesi, terapisti, persino gli studenti in medicina e sono dati relativi appunto alle donazioni in erogazioni in denaro oppure in beni e servizi che quindi comprendono anche consulenze, convegni e altri tipi di vantaggi di cui può godere un professionista, ovviamente in maniera assolutamente lecita e questo diventa un database che traccia i finanziamenti privati per quanto riguarda tutti gli operatori della sanità, del sistema sanitario nazionale. Quindi avevamo nel 2014, faccio l'esempio della Francia, oltre 180.000 medici che sono finiti nella database della Francia. La soglia che è stata messa per iniziare la discussione è 10 euro per ogni singola donazione in beni e servizi. Ovviamente questa sarà una soglia che verrà discussa con le altre forze politiche, quindi compresa la Lega, il Partito Democratico e quindi si arriverà comunque a una convergenza, perché da molti viene considerata una soglia troppo alta. Tuttavia la stessa soglia del Sunshine Act francese e del Sunshine Act americano che è in dollari, quindi 10 dollari. Questo ha permesso di tracciare oltre 700.000 donazioni che sono pubbliche e permette appunto di distinguere molto bene quando uno sta lavorando per il pubblico, quando uno sta lavorando per il privato. Ed è soprattutto una proposta di legge per la prevenzione della corruzione, cioè della trasparenza come prerequisito per il consolidamento della fiducia. E' proprio in visione, ed è uno degli strumenti sia per i giornalisti, quindi comunque uno dei nuovi livelli essenziali, uno dei nuovi diritti emergenti è la trasparenza. Questa assolutamente fa combaciare questa proposta di legge proprio con la trasparenza totale a 360 gradi e prevede quindi ovviamente la trasparenza anche per le organizzazioni sanitarie, per le proprietà brevettuali o le proprietà di azioni. E questa eventuale burocrazia di cui i detrattori denunciano è comunque in capo alle società dei dispositivi medici o delle multinazionali farmaceutiche, perché l'obbligo di denuncia, l'obbligo di segnalazione del fatto che io ho pagato un convegno, un albergo, una consulenza o qualsiasi altra cosa è in capo proprio alla società dell'industria sanitaria. Quindi non ci sono oneri burocratici per gli oltre 300.000 medici in Italia, 400.000 infermieri e altre figure sanitarie. Ecco, voi avete fatto un calendario di audizioni in commissione e lei ha detto che questa legge ha qualche detrattore. Perché spaventa un po' questa legge? Ha molti detrattori, perché la cultura della trasparenza in Italia in realtà non c'è, va creata. Questa è una legge che soprattutto ha lo scopo di iniziare a creare la cultura della trasparenza, perché la trasparenza è qualcosa che può essere usato. Può essere usata soprattutto in favore del professionista, del sanitario, del medico. L'unico onere che sarà in capo ai medici saranno le eventuali partecipazioni ad azioni, esclusi l'utilizzo di broker, quindi pacchetti azionari da cui saranno esclusi, oppure a partecipazioni brevettuali. Nel momento in cui hanno una partecipazione brevettuale, una partecipazione ad un'azione o a qualsiasi tipo di prodotto finanziario, quello rimarrà in capo al medico perché per una serie di esigenze non siamo riusciti a sgravarle da questo tipo di dichiarazione. Ma tutto il resto, tutti gli altri oneri relativi all'obbligo di dichiarazione saranno in capo alle multinazionali farmaceutiche, all'industria di dispositivi medici. Qualora non adempiessero a questo tipo di dichiarazione per parziale omessa dichiarazione, ci saranno delle multe che saranno ovviamente piuttosto salate ma proporzionali ovviamente all'omessa dichiarazione. Inoltre stiamo anche pensando di esentare le piccole società che lavorano nel settore anche come intermediazione, che hanno fatturati bassi ma che non sono delle collegate con le grandi multinazionali società di dispositivi medici perché altrimenti sarebbe un modo per eludere il fatto che diventano erogatori di denaro.